Paludarsi di filosofia Monografia speciale del Centro Italiano di Parapsicologia Il caso dell'entità A Si è spiegato all'entità A nel corso di una recente seduta, siamo nel 1990, che si stava preparando questo speciale libro in coincidenza della sua apparizione 45-ennale e dei 60 anni che quest'anno compie il suo nostro medium. E l'abbiamo pregata di strutturare le risposte in modo breve e possibilmente in tono discorsivo come un'intervista, aggiungiamo noi. Ancora una volta A conferma una duttile capacità di adeguarsi al senso del limite e delle necessità umane. Domanda, qualcuno di noi pensa che chiederti risposte brevi perché stiamo assemblando nostre domande e tue risposte per un uditorio più vasto, sia comunque irriverente. Entità A Se l'irriverenza cela una maliziosità intelligente con fini conoscitivi, non c'è nulla di male. Temo però che lo spirito non capisca molto bene queste differenze psicologiche. Mi riferisco ad uno spirito disincarnato, ovviamente. Domanda Ma allora, maestro, si può anche trattare la spiritualità col senso del gioco? Oppure bisogna necessariamente coprirsi il capo e paludarsi di filosofia? Entità A A volte il gioco è il modo intelligente per acquisire esperienze, specie quando queste, essendo difficili e complesse da realizzarsi, incontrando resistenze psichiche e morali, verrebbero eluse, rinviate o ridotte. Il gioco impegna i sensi e altri livelli mentali a realizzare su un piano apparentemente superficializzato ciò che lo spirito non potrebbe eseguire, avendo della materia corporea un controllo pressoché esiguo. Il gioco diventa, quindi, una possibile tangente di uscita e di attraversamento delle esperienze in molteplici situazioni, anche nel senso che il gioco può rappresentarsi come metafora e dunque come simbolo. Il simbolo è, come ho spesso già detto, il luogo mentale in cui lo spirito può far valere una parte della propria presenza. Per il gioco nel senso propriamente umano e materiale, il discorso deve essere fatto in modo diverso. Lo spirito, invece, non ha il senso del gioco, perché lo spirito, visto fuori dal contesto materiale, non ha in sé il principio degli opposti, per cui gli mancano le contrapposizioni serio-faceto, triste-allegro, verità esternata, verità simbolico-metaforica. Nello spirito c'è lo stato della partecipazione alla propria presenza in divenire. Alle sensazioni emotive e umane corrispondono altri stati interiori e soggettivi che voi, in quanto corpi, non potete capire. Detto ciò, voglio però aggiungere una cosa. Non è scritto da nessuna parte che le cose dello spirito debbano essere affrontate con paludamento sacerdotale o con serietà filosofale. La verità non è né triste né allegra, né seria né ridicola, non è né buona né cattiva, bella o brutta, intelligente o sciocca, vera o falsa. La verità è semplicemente unica, poiché il suo denominatore è l'infinitezza e l'assolutezza eterna, e ogni tentativo di chiarirla con spiegazioni e con ipostatizzazioni rischia di contaminarla e di falsificarla. La verità è semplicemente unico. La verità è semplicemente unico. La verità è semplicemente unico. La verità è semplicemente unico.